che concentrazione si perché anche qua se si sbaglia il movimento l'obiettivo è sempre la testa è sempre più che concentrati neanche perché ci sono dietro io soprattutto se si può notare che il colpo è sempre l'obiettivo molto molto bene ricordo che all'accademia Fodokan che avevano praticato il titolo dell'attivazione condizionale ieri vi provo a vedere il tuo full kendo oggi l'inkido è il karate